rispondete a questa domanda cosa vi manca per essere felici bentornati stock in page benvenuti in questo nuovo video io ve lo presento subito questo libro magico profondo bellissimo di simona artzori cosa ti manca per essere felice libro che ho voluto leggere perché conoscevo a grandi linee la storia di questa ragazza incredibile c'è poco da dire ma volevo ascoltare la storia narrata da lei stessa è un libro che metterò sicuramente nella playlist dedicata al miglioramento personale l'ho creata l'anno scorso sto aggiungendo libri un po alla volta e questo sicuramente merita un posto d'onore in quella lista lì anche perché dentro questo libro simona fa riferimento alla legge di attrazione e mi trova d'accordissimo sui vari concetti che lei va esprimendo il concetto cardine di questo libro è che i limiti spesso anzi il 99,9 per cento delle volte ce li imponiamo noi stessi siamo noi a bloccare qualsiasi nostra iniziativa quando pensiamo non sono capace non ce la posso fare ma perché lo devo fare a cosa serve tanto non arriverò mai dove voglio arrivare e non proviamo neanche a fare quello che vorremmo fare alle volte si può fallire è vero ma non è meglio aver provato e aver fallito che non rimanere lì in un angolino a dire avrei voluto provare ma ho avuto paura perché ragazzi quando si arriva a un certo punto della vita o anche alla fine della vita stessa ci si guarda alle spalle e secondo me è meglio avere dei ricordi di questo tipo cioè ci ho provato e magari ci sono riuscita oppure ci ho provato e ho fallito piuttosto che ritrovarsi a dire perché quella volta non ci ho provato perché non ho almeno tentato di fare quella cosa che avevo in mente mi sarei anche divertita magari non sarebbe andata in porto ma intanto mi sarei divertita mi sarei messa alla prova avrei provato nuove emozioni perché no sarei cresciuta ancora di più mi sarei anche migliorata perché anche dai fallimenti si può trarre qualche insegnamento buono a farci crescere a farci cambiare strada o a percorrere una strada che non avrebbe avremmo mai percorso e simona l'incoraggiamento ce l'ha avuto già dai genitori specie da una madre ultra positiva sempre col sorriso sulle labbra sempre pronta a risolvere i problemi senza sbraitare ma con una mano ferma e una positività che l'ha sempre contraddistenta ha trasmesso queste cose questo coraggio questa positività a sua figlia e i risultati sono sotto gli occhi di tutti perché questa ragazza nata purtroppo senza braccia ha messo in atto ha realizzato praticamente ogni sogno che si era imputata di voler realizzare è diventata una ballerina ha viaggiato per il mondo a un sacco di festival supportando la causa dei disabili facendosi il portavoce di queste persone è diventata una pettrice e i suoi quadri che sono contenuti anche alcuni quadri sono contenuti dentro questo libro rivelano un'anima assolutamente frizzante amabile piena di vita i suoi quadri sono pieni di vita di emozioni tu li guardi e veramente dici qui c'è un pezzo d'anima di questa ragazza poi cosa ha fatto ha fatto anche sci nautico ebbene sì insomma non si è fatta fermare da niente perché lì dove c'è la volontà c'è anche il modo di realizzare certe cose questo libro non è solo la sua storia personale ma anche la storia di chi l'ha circondata per tutti questi anni quindi si racconta un po la storia dei suoi genitori la storia di sua sorella di tutti gli amici di tutti i professionisti di tutte quelle persone che le hanno voluto bene che le vogliono ancora bene e che lei ha contraccambiato di tutto cuore è riuscita ad arrivare ad avere una vita ricca piena di impegni piena di cose belle da fare piena di cose che la mettono sempre alla prova piena di ostacoli da che lei volutamente si mette davanti mette davanti a sé per riuscire a superarli per vedere se riesce a superarli quindi lei da quello che racconta dentro questo libro non ha mai detto di no a qualsiasi proposta che le veniva fatta anche se giustamente come tutti noi che ci troviamo davanti a una cosa nuova che non abbiamo mai fatto veniva all'inizio frenata dalla paura ma l'entusiasmo il fatto di dire no voglio vedere se ce la faccio la spinta sempre ad affrontare nuove avventure e in effetti è arrivata ad avere una vita assolutamente bellissima piena di soddisfazioni e piena di gioie di ricordi che le rimarranno anche quando sarà più anziana mi è rimasta impressa una cosa che lei dice in questo libro è che la felicità non dovremmo mai farne un'ossessione perché la vera felicità quella euforia quel cuore che batte a mille quella assoluta soddisfazione la proviamo poche volte magari quando riusciamo a fare delle cose come è successo a lei che ha fatto degli spettacoli di danza accanto a ballerini strafamosi e invece lei dice che quello a cui dovremmo mirare è la serenità che è una forma di felicità più facilmente ottenibile ovvero sia è anche quella forma di felicità che poi ci fa arrivare a provare quella euforia di cui parlavo prima perché se di base non si è ottimisti positivi sereni contenti di ciò che sia la vita non ci presenterà mai quelle occasioni che ci vengono incontro quando noi esprimiamo quel tipo di energia lei lo dice chiaramente la legge dell'attrazione è una legge che esiste davvero fai del bene e avrai del bene pensa bene e il bene ti arriverà incontro direi che lei ne è una prova vivente quindi che dire di questo libro bello da leggere da mettere nella vostra playlist di libri sul miglioramento personale perché simona ha un sacco di cose da insegnarvi sia come essere umano sia come persona che ha dovuto affrontare un sacco di ostacoli e che non si è mai lasciata abbattere è una donna profondamente umana anche perché nel libro confessa alcune cose le sue paure le sue angosce descrive la sua adolescenza un po travagliata giustamente perché ha avuto dei problemi alla schiena però tirando le somme ci aiuta capire che tutti noi possiamo avere una vita piena una vita ricca basta solo non farsi fermare dai nostri limiti autoimposti o imposti da altri ecco non ascoltiamo chi ci dice non sei capace non ce la puoi fare perché alla fine se non ci credi tu chi ci crederà era una pubblicità se non sbaglio vero se non ci credi tu chi ci crederà quindi crediamoci noi per primi a ciò che vogliamo fare ai sogni che vogliamo realizzare non facciamoci fermare da nulla proviamoci almeno proviamoci e ci accorgeremo che il più delle volte un primo passo un primo tentativo porta altre cose altre persone ci arriveranno incontro altre situazioni ci aiuteranno le cose si incastreranno in modo da farci arrivare alla meta dove vogliamo arrivare consigliato come libro io vi ringrazio di aver guardato questo video e vi aspetto come sempre alla prossima ciao bella gente